Era il 1934 quando Nissan andava in scena con la mitica Dayton Model 13-track, oggi il suo erede naturale è questo pick-up appena sbarcato in listino. Si chiama Nissan Navara, nasce negli stabilimenti spagnoli di Barcellona ed è già pick-up of the year 2016. Il modello che abbiamo provato è con carrozzeria double cab, con il classico cassone posteriore e i numeri in termini di carico non lasciano spazio a dubbi, abbiamo a che fare con un veicolo capace di coniugare doti di comfort in stile Qashqai a quelle di un mezzo da lavoro vero e proprio. Già perché se dentro si viaggia comodi e in posizione rialzata da terra è allo stesso tempo possibile caricare fino a 12 quintali o rimorchiare fino a 3 tonnellate e mezzo. Il suo habitat naturale è lo sterrato, gli angoli d'attacco sono compresi tra 29 e 31 gradi e dal quartier generale Nissan assicurano che è possibile affrontare pendenze di oltre 30 gradi. La trazione integrale si attiva da un pulsante sulla plancia, mentre se viaggiamo su strade asfaltate è possibile selezionare la modalità 2WD, scelta che aiuta anche a consumare meno. per quanto riguarda la trasmissione, Nissan Navara offre di serie il cambio manuale a sei marce, con l'automatico a sette rapporti disponibile solo negli allestimenti più ricchi e con carrozzeria da volare. Sotto il cofano abbiamo invece un motore diesel da 2 litri e 3 di cilindrata, disponibile con due livelli di potenza, 160 o 190 CV.